Manoli all'inseguimento, primo quarto equilibrato, 52-40 alla fine del primo tempo con un scatenato Logan che con 15 punti sta trascinando i suoi verso la vittoria, canestri da ogni modo, tutti da tre punti, tutti di incredibile fattura, insomma, si riconferma un giocatore davvero clamoroso, molto bene anche Mecobulo che sta vattendo in difficoltà a Cremona che invece non sta utilizzando la zona come aveva fatto nelle ultime gare, insomma, vedremo se nel secondo tempo ci sarà qualcosa di un pochino più brillante perché la Manoli sembra un pochino spenta o se soprattutto non sembra ancora aver trovato la giusta forma, insomma, più tardi per capire come darmi in questa sfida.